È un anniversario molto importante, i 30 anni, siamo particolarmente felici che nel contesto di tutte le celebrazioni di questo importante punto di partenza, non di arrivo, un grande progettista, architetto e designer come Massimo Iosaghini abbia accettato di realizzare una linea di prodotti per noi. È un prodotto che ha una sua origine naturale perché la forma replica una certa linea di florealità, è un fiore, l'abbiamo chiamato calos proprio per questo riferimento, è un prodotto che si sposa con lo specchio, lo specchio affonda in un certo senso all'interno della vasca e quindi c'è questa continuità che appunto dà questa idea di naturalità, un po' come nella pianta nasce, sboccia un'essenza. I materiali sono materiali estremamente avanzati, utilizziamo delle resine con un'attenzione anche alla sostenibilità e poi abbiamo un effetto stilistico generale che ci deve generare un po' un'idea di bagno completo. L'utilizzare la tradizione come elemento di valore, questo è l'aspetto che mi piace di più di questa azienda. Questo tipo di stile è uno stile che deriva dall'Ottocento, dal primi del Novecento, le arts and craft, i pre-Raffaeliti, John Ruskin, tutti questi personaggi che hanno colto nella riproduzione dell'aspetto naturale il valore delle cose, la possibilità di utilizzare delle forme, delle tecniche, ma anche dei materiali stessi partendo dalla natura. Questa florealità che determina una decorazione è assolutamente allineata con quello che è la nostra volontà di avere una partenza naturale che può determinare delle forme magari sintetizzate, più grafiche, più moderne, ma partendo dalla stessa radice. La natura non è né classica né moderna, quindi siamo riusciti grazie al lavoro straordinario di design e grazie anche ai nostri tecnici che hanno saputo legare il design alla tecnicità, realizzare un materiale secondo me straordinario, un white tech che comunque è un materiale assolutamente ecologico, molto duro, non è poroso ed è un materiale vicino all'ambiente. In realtà i linguaggi del confronto sono dei linguaggi che possono portare armonia quando ci si può confrontare e anche queste linee nuove che Massimo ha disegnato per noi portano Devon, a mio avviso, ad essere, a entrare in altri segmenti dove magari prima mancava. Quindi in questo senso il confronto profondo con l'architetto Massimo Ioseghini apre strade nuove e nuovi percorsi a Devon & Devon. Grazie a tutti.